Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare della duplicazione del DNA. Sin dalla scoperta della sua struttura fu chiaro che il DNA avrebbe potuto agevolmente duplicarsi, facendo in modo che ogni filamento fungesse da stampo per la costruzione di un nuovo filamento complementare. Furono allora ipotizzate tre diversi modelli di duplicazione. Il modello conservativo, secondo il quale le due molecole di DNA che si ottengono al termine della duplicazione sono costituite una da entrambi i filamenti di partenza e l'altra da due filamenti completamente nuovi. Il modello semiconservativo, secondo il quale le due molecole di DNA sono costituite da un filamento vecchio e un filamento nuovo ciascuna, e il modello dispersivo, secondo il quale le due molecole di DNA sono costituite da segmenti vecchi alternati a segmenti nuovi. Per capire quale dei tre sia quello corretto è necessario rifarsi ad un classico esperimento eseguito nel 1957 da Matthew Meselson e Franklin Stahl, i quali sfruttarono una proprietà delle soluzioni di cloruro di cesio. Centrifugando a lungo una soluzione concentrata di cloruro di cesio si ottenne un gradiente di densità. La densità della soluzione non è uniforme, ma aumenta dall'alto verso il basso. Se in questa soluzione si immerge una qualsiasi sostanza, essa si fermerà ad un'altezza corrispondente alla propria densità. Infatti, secondo il principio di Archimede, un corpo affonda se la sua densità è superiore, mentre galleggia se è inferiore. Meselson e Stahl pressero allora alcune cellule e le fecero riprodurre in un ambiente in cui l'azoto normale N14 è sostituito da un isotopo più pesante N15. Durante la fase S, l'incorporazione di azoto 15 nel nuovo DNA dà origine a delle molecole più pesanti, che nel cloruro di cesio centrifugato si stratificano più in basso rispetto al DNA costituito da N14. Successivamente le cellule con il DNA più pesante furono trasferite in un ambiente con azoto normale e indotte a riprodursi. A tempi prestabiliti furono prelevati campioni di DNA, che vennero fatti nuovamente stratificare in cloruro di cesio. Dopo un tempo pari ad un ciclo cellulare, il DNA estratto si stratificava ad un livello intermedio tra quello con N14 e quello con N15. Dopo due generazioni furono riscontrate due bande di stratificazione, una a livello intermedio e un'altra corrispondente a N14. Nelle generazioni successive la quantità di DNA a densità intermedia rimaneva stabile, mentre quella con N14 aumentava progressivamente. Dai risultati ottenuti possiamo quindi subito scartare il modello conservativo, altrimenti avremmo avuto sin dall'inizio due bande, una in corrispondenza di N14, cioè molecole costituite dai filamenti vecchi, e un'altra in corrispondenza di N15, cioè molecole costituite dai filamenti nuovi. Il modello dispersivo è a sua volta da scartare, perché successivamente non potrebbe più ricomparire la stratificazione in corrispondenza di N14. Rimane quindi il modello semiconservativo. La duplicazione del DNA avviene in due tappe successive. Come prima cosa, la doppia elica del DNA, con l'aiuto di specifici enzimi, tra cui le DNA elicasi, si despiralizza e si rompono i legami a idrogeno tra le basi complementari, formando così una struttura AY, detta forcella di replicazione. Nella seconda tappa, nuovi nucleotidi si uniscono tra loro secondo una sequenza determinata dalla complementarietà con la successione delle basi nel filamento che fa da stampo. Per eseguire il compito è necessaria un'intera sequenza di enzimi, tra cui il più importante è la DNA polimerasi. Sono state individuate diverse DNA polimerasi. Nelle cellule eucariotiche le più importanti sono quelle denominate gamma e epsilon. Tutte possiedono tre domini, la cui organizzazione fa ricordare quella di una mano destra. C'è un palmo, al quale sono attaccate le dita, e un pollice. Il palmo è costituito da più strutture a foglietto beta, che formano un piano, mentre le dita e il pollice si ripiegano verso il palmo formando una sorta di canale entro cui scorre il DNA. Sul palmo si esercitano le principali funzioni catalitiche. Qui si forma il legame fosfodiesterico che unisce i nucleotidi tra loro. Si controlla il loro corretto appaiamento e sempre qui risiede l'attività di proofreading, che vedremo più avanti. Le dita hanno un ruolo importante nella cattura dei nucleotidi e nel loro riconoscimento, mentre il pollice serve per mantenere il filamento di DNA che deve essere copiato nella giusta posizione. La duplicazione inizia in un punto ben preciso della molecola di DNA, detto punto di origine della replicazione, caratterizzato da una sequenza di nucleotidi, che contengono molte coppie AT, le quali, avendo due soli legami a idrogeno rispetto alle coppie GC, si aprono con relativa facilità. Nei procarioti esiste un solo punto di origine. Negli eucarioti, invece, data l'enorme quantità di DNA presente, se ne trovano da 20 a 80. Il meccanismo di duplicazione è abbastanza complicato. Innanzitutto, il DNA deve interagire con un gigantesco complesso proteico, detto complesso di riconoscimento dell'origine, ORC. Tale complesso si forma in seguito all'unione di diverse proteine tra loro, e serve alle elicasi per separare i filamenti del DNA. A questo punto, speciali proteine dette SSB, Single Strand DNA Binding Protein, intervengono a mantenere i filamenti separati, impedendo che si riformino i legami a idrogeno. A partire da questo momento, può iniziare il vero e proprio meccanismo di duplicazione. Purtroppo, le DNA polimerasi hanno due importanti limitazioni. Non sono in grado di iniziare da zero a costruire i nuovi filamenti di DNA, per cui hanno bisogno di un innesco, e possono aggiungere nuovi nucleotidi soltanto all'estremità 3' di un filamento. Per risolvere la prima limitazione, dopo l'apertura del DNA, interviene l'enzima primasi, che sintetizza un piccolo frammento di RNA lungo una decina di nucleotidi, il primer. Si pensa che la necessità dell'innesco derivi dal fatto che, con pochi nucleotidi, l'attività di proofreading è molto difficile, e ciò aumenterebbe di molto la possibilità di errori. La seconda particolarità delle DNA polimerasi viene risolta in maniera un po' più complessa. Una volta formatasi la bolla di replicazione, la DNA polimerasi si trova davanti ad un filamento di DNA che va in direzione 5'-3' e un altro invece che va in senso opposto, 3'-5'. Naturalmente, all'estremità opposta della bolla, le direzioni dei filamenti sono invertite. Di conseguenza, il filamento con direzione 5'-3' può scorrere velocemente ed ha infatti l'estremità 3' libera, sulla quale la DNA polimerasi aggiunge nucleotidi, mentre il filamento opposto rimane bloccato. Si vanno a formare quindi due anse, dette loop, che, dopo un certo tempo, impediscono l'ulteriore scorrimento del DNA. All'interno delle anse interviene poi un'altra DNA polimerasi, quella di tipo gamma, che si posiziona in direzione invertita all'interno del loop e fa scorrere il filamento 3'-5' in direzione contraria, che poi è quella giusta per l'aggiunta di nucleotidi. Una volta eliminati i loop, lo scorrimento del DNA riprende fino a che la situazione non si ripete di nuovo. Di conseguenza, un filamento della molecola originale di DNA, quello che va in direzione 5'-3' viene copiato in maniera continua e per questo è detto filamento guida, leading strand, mentre l'altro viene copiato in maniera discontinua ed è detto filamento ritardato, lagging strand. Naturalmente, per consentire alla DNA polimerasi gamma di svolgere il suo lavoro, ogni volta è necessario riformare il primer. Ne deriva che sul filamento ritardato vi saranno dei tratti di DNA intervallati da primer a RNA. I tratti di DNA della lunghezza di circa 1000 nucleotidi prendono il nome di frammenti di Okazaki, dal biologo giapponese Reiji Okazaki, che li ha descritti per primo. La formazione del legame fosfo-diesterico avviene utilizzando dei deossiribonucleotidi trifosfato e avviene per attacco nucleofilo sull'OH in posizione 3' del nucleotide già legato. Al termine della reazione, che richiede la presenza di ioni magnesio 2+, si libera il pirofosfato, quindi è come se ogni volta si utilizzassero due molecole di ATP per ogni nucleotide aggiunto. Tutto ciò rende il ΔG fortemente esoergonico, risposta quasi completamente l'equilibrio della reazione verso destra, rendendola praticamente irreversibile. Una volta terminata la replicazione, tutti i primer vengono sostituiti con DNA e i frammenti di Okazaki vengono saldati tra di loro, da particolari enzimi detti DNA ligasi. Non tutti i primer però sono completamente rimpiazzati. L'ultimo primer in posizione 5' del filamento ritardato viene sostituito soltanto in parte, per questo si perdono circa 30 nucleotidi, per cui il cromosoma rimane a singola elica alle due estremità. Queste estremità vengono tagliate via da delle endonucleasi, che così il cromosoma si accorcia ad ogni ciclo di duplicazione. Infatti, con la vecchiaia è una caratteristica comune trovare delle cellule che presentano dei cromosomi sempre più corti. I telomeri sono fondamentali perché conferiscono stabilità, impediscono eventuali fusioni tra dei cromosomi diversi e, siccome vanno incontro a una riduzione, formano una specie di grosso tappo. In questo modo, prima di eliminare le regioni geniche, deve passare del tempo e questo permette alle cellule di sopravvivere per una certa durata, fino al punto in cui tutte le sequenze telomeriche si sono ridotte e il segnale che viene dato alla cellula è che ormai sta diventando troppo pericoloso eliminare dei pezzi di cromosomi e, a questo punto, è meglio attivare l'apoptosi. Ma come viene risolto questo problema nelle cellule eucariotiche? Mentre nei virus vengono utilizzate delle proteine terminali e in dei batteri e batteriofagi il DNA è circolarizzato, negli eucarioti si ha un meccanismo un po' diverso. A questo proposito, la scoperta della telomerasi è stato un evento molto importante. Questa, nelle cellule germinali, ha il compito di proteggere dall'erosione l'estremità dei telomeri ed è formata da una componente terc a RNA e una componente enzimatica che ha l'attività di reverse trascrittasi, ovvero sa sintetizzare il DNA su stampo dell'RNA. La telomerasi evita questo progressivo accorciamento del filamento tardivo agendo come una trascrittasi inversa. Al suo interno contiene infatti un RNA stampo che serve per prolungare la catena stampo di DNA parentale. Un'ulteriore estensione dell'estremità 3' della catena stampo di DNA fornisce il modello necessario per la DNA polimerasi alfa per completare la sintesi del filamento ritardato, a partire da degli ulteriori primers. Lo svolgimento della doppia elica da parte dell'elicasi porta il DNA ad attorcigliarsi notevolmente a valle e formare grovigli che possono causare dei problemi. Per evitare questi avvolgimenti indesiderati intervengono degli enzimi che sono chiamati topoisomerasi che dapprima rompono una delle due catene di DNA in modo che la molecola possa districarsi ruotando intorno al punto di rottura. Successivamente riuniscono le estremità interrotte. Abbiamo già sottolineato il fatto che la DNA polimerasi è caratterizzata da un'alta fedeltà di copia. Tuttavia non è perfetta. Essa compie un errore ogni circa 10 alla quinta basi duplicate. Per quanto basso questo sembrerebbe, si produrrebbero comunque circa 60.000 errori ogni volta che una cellula umana si divide. Si calcola invece che il tasso di errore nella duplicazione si aggiri intorno ad 1 ogni 10 alla nona basi duplicate. Questa eccezionale accuratezza è il risultato di vari processi, il primo dei quali è il proofreading, ovvero la capacità insita nella DNA polimerasi di intervenire nella correzione degli errori da esse effettuati. Questa attività consiste nel poter rimuovere un nucleotide alla volta, sempre a partire dall'estremità 3' fino ad arrivare all'errore individuato e da lì ricominciare la duplicazione, un po' come facciamo al computer con il tasto backspace. L'inserimento errato di un nucleotide nella sequenza in via di accrescimento genera un mismatch, ovvero un appaiamento errato tra le basi azotate, che causa la perdita del parallelismo normalmente esistente tra i due filamenti del DNA. Altri meccanismi di controllo della duplicazione intervengono al termine dell'intero processo e consistono nell'eliminazione di basi anomale e la loro sostituzione con basi normali. Detto questo, abbiamo concluso questo capitolo riguardo la duplicazione del DNA. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi contenuti e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!